Buon poveriggio e bentornata a nuova edizione di TG Sestina. Apriamo il TG con una notizia dell'ultimo minuto. Un aereo russo è stato abbattuto al confine con l'Ucraina. Secondo Mosca ci sarebbero stati 65 prigionieri ucraini a bordo. Al momento sono ancora da chiarire la vicenda. Infatti le due potenze si stanno accusando tra di loro. Ce ne parla meglio la nostra inviata Sara Tirrito. Mi trovo qui a pochi chilometri dal luogo dell'esplosione. Come dicevi da studio, le autorità di Mosca hanno appena comunicato che l'aereo che si intravede alle mie spalle è esploso dietro di me. è stato abbattuto da un missile antiaereo. Si trattava da quello che hanno comunicato i media russi di un aereo ucraino. Come vedete dal video, il velivelo è stato abbattuto improvvisamente da un missile. Sarebbe precipitato nella regione meridionale di Belgorod, a pochi chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. diverse le versioni su cosa ci fosse a bordo di questo aereo. Infatti i media russi sostengono che ci fossero 65 soldati ucraini messi in volo per uno scambio di prigionieri. In realtà l'Ucraina fa sapere che a bordo c'erano missili S-300, missili russi S-300. Stando a quanto riportato da Mosca, a colpire il velivolo sarebbe stato un missile proveniente da nord-est, ma è ancora tutta da chiarire la dinamica. La situazione in guerra in quest'ora è molto tesa, sempre più critica per Kiev. Gli Stati Uniti hanno dichiarato preoccupazione perché stanno scarseggiando le munizioni e le armi che appunto gli stessi americani forniscono all'Ucraina. Questo perché è in stallo proprio l'autorizzazione del Congresso a continuare a dare fondi a Kiev. Per il momento è tutto, vi richiederò la linea se ci saranno aggiornamenti sulla vicenda. Questa notte si sono tenute le primarie nello stato del New Hampshire. L'ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, ha vinto nuovamente segnando appunto un avvicinamento nella sua corsa verso la presidenza. Da Concord, Matteo Pedrazzoli ci spiega i possibili risvolte di queste elezioni americane. Sì Alessandra, un'altra vittoria netta, quella di Donald Trump contro l'unica rivale ormai rimasta in corsa per la nomination alla presidenza dei repubblicani, Nikki Haley. Con il 54% Donald Trump ha vinto queste primarie e sono state delle primarie particolari diverse da quelle dell'Iowa perché in New Hampshire la legge statale permette agli elettori non solo quelli iscritti al partito repubblicano ma anche agli indipendenti di partecipare alle primarie. Proprio Haley contava molto sull'elettorato indipendente per sospingere la sua campagna che però non è stata sufficiente la risposta dell'elettorato indipendente. La sfida tra Trump e Haley adesso si sposta in South Carolina, South Carolina che è lo stato di cui Nikki Haley è stata governatrice fino al 2017. Nonostante questo South Carolina è anche una roccaforte del presidente Trump, tanto è vero che il governatore dello Stato Harry McMaster e i due senatori dello Stato, vale a dire Lindsey Graham e Tim Scott, hanno già dato il proprio endorsement all'ex presidente. A proposito di Tim Scott che ieri sera era qua sul palco di Concord assieme a Donald Trump, voce all'interno del partito darebbero lui, che tra l'altro è l'unico rappresentante al Senato afroamericano per i repubblicani, come possibile vicepresidente. Ti restituisco la linea. Andiamo ora in Medio Oriente. Il ministro degli esteri italiani è arrivato oggi a Beirut, in Libano. Si tratta della prima tappa del suo tour che nei prossimi giorni lo vedrà impegnato a Tel Aviv, a Gerusalemme e a Ramallah. Tra i punti da affrontare è la crisi al confine libanese e una soluzione anche al conflitto israelo-palestinese. Ci spiega meglio Nicola Palla. Obiettivo d'escalation, questa è la posizione del ministro degli esteri italiani parlando con i giornalisti a Beirut dove è arrivato poche ore fa con un volo di Stato. Quella libanese è la sua prima tappa in Medio Oriente che lo porterà anche a Tel Aviv, a Gerusalemme e a Ramallah. La missione del ministro di Tagliani è iniziata con l'incontro con i militari della missione bilaterale italiana Mibil, da cui poi avrà anche un videocollegamento con il contingente italiano presso la missione ONU in Libano. Successivamente il ministro degli esteri avrà incontri con gli esponenti della politica libanese e tratterà il rischio di allargamento del conflitto e le tensioni sul confine con Israele. Proprio parlando di Israele, sull'attuale situazione a Gaza, Tagliani si è poi seppur detto favorevole alla possibile presenza di una forza ONU all'interno della striscia di Gaza dopo la fine del conflitto, sottolineando che la mediazione si sta muovendo per parlare sia con il governo Netanyahu, sia con l'autorità palestinese che con il governo libanese. Tagliani ha poi ribadito che l'Italia considera la soluzione dei due stati e due popoli come l'unica in grado di garantire la pace della regione. Restituisco a voi la linea se ci sono delle domande. Sì Nicolò, volevo chiederti qual è la situazione al momento al valico di Raffa e se ci sono aggiornamenti sull'entrata appunto di aiuti umanitari a Gaza. La situazione sul valico di Raffa è abbastanza delicata in questo momento, come detto dal presidente egiziano al Sisi, in questo momento molti cittadini israeliani si sono ammassati di fronte al confine bloccando l'ingresso degli aiuti umanitari, una situazione che sta portando non pochi disguidi chiaramente alle procedure per l'ingresso degli aiuti. I cittadini israeliani stanno protestando con il governo israeliano e con la comunità internazionale per la mancata liberazione degli ostaggi che in questo momento sono ancora nella striscia di Gaza in un'area, secondo l'intelligenza israeliana, tra Khan Yunis nella parte sud e Raffa. Voltiamo ora pagina e passiamo alla politica. Ieri il Senato ha dato il via libera al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Non sono mancate le proteste in aula e ora il testo dovrà passare alla Camera. Ce ne parla meglio appunto Matteo Negri. Alessandra, è una situazione surreale quella che si è vissuta ieri in Senato. Dopo mesi di trattative all'interno della maggioranza, il testo del disegno di legge Calderoli è arrivato in aula. Quando è stata dichiarata aperta la votazione, sono scoppiate le proteste delle opposizioni che hanno intonato l'inno italiano. E a sorpresa, anche i senatori di Fratelli d'Italia si sono uniti al coro, mentre una senatrice della Lega ha sventolato una bandiera veneta. Al termine della bagarre, è stato dichiarato il risultato della votazione che è risultata favorevole al provvedimento con 110 voti appunto favorevoli. Ora il testo passerà all'esame della Camera e qualora approvato il disegno di legge Calderoli riuscirà a applicare l'articolo 116 della Costituzione che permette alle Regioni di avere maggiori competenze su 23 materie, dall'istruzione alla sanità, ma anche trasporti e ambiente. Però prima di diventare esecutiva, l'autonomia dovrà avere un ulteriore passaggio, cioè la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi per i servizi che dovranno essere garantiti in tutte le regioni d'Italia. Nel frattempo le opposizioni si stanno già preparando a fare proteste non solo dentro le aule del Parlamento ma anche fuori e da ultimo il Presidente della Regione Puglia, questa mattina Michele Emiliano, ha dichiarato che una delle ipotesi da considerare è quella di iniziare a preparare una campagna per il referendum abrogativo sul disegno di legge Calderoli. A te. È stata rimandata la decisione della Commissione europea sull'ipotesi dell'acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa, il collegamento di Costanza Oliva. Pronunciamento sulla vendita di Ita Airways a Lufthansa doveva avvenire il 29 di gennaio, ma la Commissione europea ha rinviato la decisione e quindi ora avrà fino al 6 giugno per dare una risposta. È stata aperta un'indagine antitrust per il timore di una possibile riduzione della concorrenza nelle tratte da e per l'Italia con il rischio in futuro di un aumento del costo dei biglietti. L'accordo tra le due compagnie aeree era già stato raggiunto nel maggio dell'anno scorso e prevede che Lufthansa acquisti il 41% delle quote della compagnia italiana con un aumento di capitale di 375 milioni e un possibile aumento della partecipazione in futuro. Il Governo Meloni ha in piano un ambizioso progetto di privatizzazioni, ma al di là del piano del Governo la vendita dell'ex all'Italia era già in piano da tempo perché appunto è un'azienda da tempo in crisi. Per il momento è tutto e ti restituisco la linea. Confermata la condanna all'ergastolo di Innocent Osegale, l'uomo nel 2018 era stato accusato di aver stuprato e ucciso Pamela Mastropietro, diciottenne di origine romana. Ci spiega meglio l'inviata Matilde Peretto. Da sei anni aspettavo questo momento. Sono le prime parole della mamma di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa a Roma, la macerata, scusate, il 30 gennaio 2018 da Innocent Osegale, cittadino nigeriano. L'uomo è stato condannato all'ergastolo per omicidio, violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Osegale però aveva presentato ricorso in appello sull'aggravante della violenza sessuale, in quanto secondo lui e i suoi avvocati questa violenza non c'era stata e la vittima era consenziente. La Cassazione però ha respinto il ricorso confermando la sussistenza della violenza e la condanna all'ergastolo. Pamela Mastropietro aveva problemi di tossicodipendenza e si era rifugiata in una comunità del maceratese. Tra il 29 e il 30 gennaio 2018 però si era allontanata e aveva iniziato a vagare per macerata e nei giardini di Iaz aveva incontrato Innocent Osegale. Da lui fu violentata, uccisa, il suo corpo è stato smembrato e stipato in due valigie. In carcere l'imputato Osegale aveva confessato l'omicidio per poi tornare a dichiararsi innocente. Aveva anche affermato che Mastropietro sarebbe morta di un overdose di eroina, fatto però poi escluso dall'autopsia. Giustizia è stata fatta ma solo in parte. Infatti secondo la madre della vittima Alessandra Verni ci sono altri responsabili ancora in libertà e ancora in grado di fare del male. Non era solo e deve fare altri nomi. E aggiunto, la mia battaglia non finisce qui. Per ora è tutto, a te la linea. Passiamo ora allo sport. Ieri il tennista altoatesino Yannick Sinner ha battuto il russo Rublev 6-4, 7-6, 6-3, quarti di finale dell'Australia Open. Venerdì è atteso il match contro Djokovic e ci racconta l'inviato Alessandro Rigamonti. Sì, ci ha preso gusto Yannick Sinner. Il tennista altoatesino ha iniziato alla grande questa nuova stagione tennistica ed ha prodato alle semifinali dell'Australian Open senza concedere neanche un set agli avversari. Quindi percorso netto per Yannick che però adesso sulla sua strada incontrerà il numero uno al mondo, uno dei tennisti più forti della storia e il campione in carica dell'uselema australiano, ovvero il serbo Novak Djokovic, il quale vorrà vincere per l'undicesima volta questo torneo. Quindi sarà una sfida tra il numero quattro e il numero uno al mondo. L'ultimo loro incontro è stato durante la semifinale di Coppa Davis dove ha visto trionfare Sinner che però in uno slam non ha mai battuto Djokovic. Quindi questo match sarà anche un importante test per vedere lo stato di forma del tennista italiano. Dall'altra parte del tabellone invece durante la notte italiana Medvev ha battuto il tennista polacco Urkacz in 5-7 ed è prodato alla semifinale nella quale incontrerà il tennista tedesco Zverev che da pochi minuti ha battuto Carlo Salkarz in 4-7 per 6-1, 6-3, 6-7 e 6-4. Quindi semifinale in programma per questo venerdì mentre la finale si giocherà domenica. Per adesso è tutto, linea allo studio. Concludiamo con lo spettacolo. Ieri l'Academy ha svelato le nomination per questi Oscar che si terranno il prossimo 10 marzo. Tra i candidati anche io capitano di Matteo Garrone in corsa appunto per il premio come miglior film internazionale. Il corrispondente è Magliadone Agostino Pistolesi. Sarà di nuovo Barbie contro Oppenheimer. Anzi sarà di nuovo il Barbie Neimer dal nome del fenomeno social virale scoppiato lo scorso luglio negli Stati Uniti quando i due film erano nelle sale statunitensi. Saranno quindi di nuovo la regista Greta Gerwig e il regista Christopher Nolan a contendersi la statuetta più ambita negli Oscar 2024, quella per il miglior film. Oppenheimer è stato anche il film più candidato con 13 candidature mentre la delusione è arrivata per la regista Greta Gerwig che non è riuscita ad accedere nella cinquina finale per la miglior regia. Oppenheimer ha inoltre ottenuto importanti candidature come quella per miglior protagonista per l'interpretazione di Killian Murphy o anche quella come miglior attrice non protagonista con Emily Blunt o quella come miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. Tra le delusioni, tra invece diciamo le conferme arrivate dai Golden Globe c'è quella di Ryan Gosling che si esibirà sul Dobby Theater nella notte tra il 10 e l'11 marzo con I'm Just Can che è già una canzone che ha avuto tantissimi stream su Spotify ed è ormai appunto una canzone molto virale. Ryan Gosling che ha anche ottenuto una nomination come miglior attore non protagonista proprio in Barbie. Ritornando invece al miglior film internazionale appunto Io Capitano di Matteo Garrone è riuscito ad entrare nella cinquina finale con il film tedesco The Teacher's Lounge ma anche la società della neve spagnola Perfect Days proveniente dalla produzione giapponese e infine la zona di interesse della Gran Bretagna. Per concludere appunto non resta appunto che aspettare la notte degli Oscar che appunto sarà in diretta dal Dobby Theater di Los Angeles. E Maglio come hai detto tra i film più nominati c'è appunto Openheimer. Pensi che possa eguagliare o addirittura superare i record di vittorie appunto degli Oscar che detengono film come Il Signore degli Anelli o appunto Titanic? Sicuramente è una sfida perché il record da battere è quella di appunto 11 Oscar solo in pochissimi film come quelli ricordati da te ci sono riusciti quindi è un'impresa molto ardua però il film di Christopher Nolan ha tutte le carte in regola per giocarsi appunto questa sfida. Queste edizioni di TG Sessina si conclude qui dalla redazione un augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.